Il presepe fosse un segno importante quest'anno e normalmente diciamo questa piazza era molto più compressa non solo di persone, di stand eccetera, quindi diciamo un po' anche la sacralità del presepe a parte le luci dell'albero rischiava di essere un po' compressa, compromessa. Quest'anno con spazi diversi abbiamo pensato che fosse importante invece un segno come quello del presepe e farlo in maniera anche creativa, innovativa, grazie agli artisti dell'Accademia Nazionale degli Artisti del Ghiaccio e grazie ovviamente alla partecipazione che risponsono importanti come Riva, Colta tra l'altro specialista del settore e Guerra Graziano Autotrasporti perché abbiamo scelto di dare questo segnale di stupore, di bellezza ma anche un modo per poter fruire di un'opera d'arte in un momento in cui i musei sono chiusi le altre opportunità artistiche sono un po' più diciamo incalando. Abbiamo accettato volentieri questa iniziativa che è stata fatta dal Comune di Pesaro anche perché poi noi siamo proprio produttori di impianti per la rifrigerazione quindi ci sembrava proprio il caso di essere noi a partecipare a questa iniziativa e anche visto il momento che stiamo vivendo tutti quanti col Covid magari così di vivere in modo un po' più piacevole anche il Natale e quindi tutte le iniziative che fa il Comune per farci vivere queste feste in maniera abbastanza piacevole. Eravamo molto affezionati alla piazza piena di gente, di mercatini, di eventi ma quest'anno abbiamo dovuto e voluto rinunciare perché dovrebbe essere un Natale intelligente di grande responsabilità al tempo stesso per mantenere il clima natalizio, l'albero, il trenino le luminari, le luminari artistiche nei borghi e anche questo presepe che ha anche un valore simbolico perché ci sono alcuni personaggi che hanno a che fare con l'identità pesarese quella musicale come Rossini, quella della poesia dialettale come Pascolone anche alcuni personaggi folcloristici che Pesaro ha avuto come ciclone e ovviamente i personaggi classici del presepe perché comunque ovviamente il Natale è la nascita di Gesù Cristo e quindi è un momento religioso importante, il presepe è un simbolo identitario sia dal punto di vista religioso che culturale e poi anche questa dedica ai pescatori di Mazzara del Vallo perché da tanto tempo sono sequestrati e abbiamo bisogno di continuare questa battaglia per liberarli il prima possibile anche attraverso queste iniziative simboliche siamo molto contenti e chissà mai che già anche il prossimo anno magari una volta che ci saremo liberati dal virus torneremo a fare festa, torneremo a riempire la piazza ma al tempo stesso il presepe di ghiaccio rimarrà grazie a questi splendidi artisti una novità confermata anche per i prossimi anni